... Cos'è la logica? Cos'è l'intervento? Cos'è l'intervento? Qual è il suo preme particolare? Cos'è l'intervento? Cos'è l'intervento? E' la sua madre? E' la sua figlia? E' la sua figlia? Finché si accorge che non è senso. E' la sua figlia? E' la sua figlia? E' la sua figlia? Finché si accorge che non è senso. Ciao papà! Se l'intervento hai visto un armato? Un disegno di morte ben collaudato. Dove ti serve? C'è? La morte, la paura e tutte quelle cose lì. Esiste ragazzi! E' normale. E' il processo preoperativo della bambina. Credi di avere un amico marginale. Ed è tutta un'illusione. E' un terrificante di E-Files. Papà! Se per queste volte Frank si è davvero negliato. Il male si nasconde dietro ogni pezzo. Copiazzato dall'omologo romanzo di Frank Sinatra. Un thriller pieno di suspense. Manco Marzio. Sposi e Zedogna. Buono d'acquisto. E' l'impietante Mago. Dobbiamo fuggire. Dobbiamo andarcene. Dobbiamo scappare. A presto. Quest'estate il male avrà un solo nome da temere. E' inutile che cerchi. Frank Stein Jr. Frank Stein Jr. Un film di Romulo Reb.